Sabato 22 giugno, buongiorno, bentrovati al primo appuntamento con l'informazione su Telepace con il nostro OTG Rassegna Stampa. Andremo a leggere i giornali in edicola questa mattina, i temi di approfondimento del giorno, ma come di consueto vediamo il buongiorno aprendo le nostre finestre sul Tiguglio e andando a vedere com'è caratterizzata la giornata di oggi dal punto di vista del meteo. Lo vediamo subito con questa immagine che ci porta sulla piana di Chiavari e di Lavagna, il cielo coperto di nubi. Quindi sarà una giornata all'insegno della transizione, non si dovrebbe vedere ancora la pioggia, ma sarà una giornata caratterizzata da nuvole basse e un passaggio di questo cielo che comunque nasconderà il sole, sparita la sabbia del deserto che ci ha accompagnato in questi giorni, ma le nuvole continuano ad avere la loro presenza sul nostro territorio con una giornata che è caratterizzata comunque anche da temperature più miti rispetto a quelle dei giorni scorsi e ci sarà anche un abbassamento delle temperature. Comunque queste le finestre, le nostre webcam che ci hanno portato nei diversi scorci del nostro comprensorio, uno sguardo alle temperature, dicevamo, valori che questa mattina sono compresi tra i 21-22 gradi lungo la costa, abbiamo anche valori di 19 gradi come a Camogli, 20 gradi, verso Zoagli, costa 21,4 a Marina Chiavari, comunque valori abbastanza uniformi lungo la costa che diminuiscono via via andando nell'entroterra, siamo a 18 gradi a San Colombano-Certennoli e poi sulla piana di Rezzoagli al momento ci sono 15 gradi a Cerisola e 16 gradi a Cabanne di Rezzoagli, un po' più freschino a Roccadaveto dove i gradi sono 13,3 e 10 i gradi sulla vetta del Monte Bue, fa ancora freschino, quindi temperature comunque in linea con le medie del periodo, ma dicevamo si attende un abbassamento almeno per la giornata di domani. Andiamo subito a vedere le previsioni del tempo del centro Meteo Limet per le prossime ore. Allora, intanto la situazione, oggi sarà una giornata di transizione con nubi sparse e basso rischio di pioggia. Tra domani e lunedì decisa intensificazione delle condizioni di instabilità sulla Liguria a causa dell'arrivo di una goccia fredda che si posizionerà tra il Mar Ligure e l'Alto Tirreno e ci sarà anche un deciso calo delle temperature dalla giornata di domani. Questa è la grafica per la giornata di oggi, per la mattinata e poi per il pomeriggio vediamo sole e velature e comunque assenza di piogge. Al mattino saranno presenti nubi basse sul golfo in estensione ad alcuni tratti della costa senza piogge schiarite sui versanti padani e agli estremi della regione. Nel pomeriggio cielo velato lungo le coste e addensamenti locali nei settori interni ma con basso rischio di pioggia, più qualche rovescio tra Bormida, Occidentale e Alpi Liguri. In serata nuova intensificazione delle nubi basse lungo le coste, sempre senza fenomeni, più aperto il tempo sui versanti padani. I venti saranno da deboli a moderati intorno a sud-est e con qualche rinforzo sui versanti padani centro-occidentali nel pomeriggio. Mare da mosso localmente molto mosso, temperature in calo le minime, massime stazionarie nelle aree interne in calo di qualche punto lungo la costa. Quindi oggi ancora assenza di pioggia, cosa che invece farà la sua comparsa nella giornata di domani. La grafica fa vedere anche temporali, soprattutto lungo l'arco appenninico e l'arco alpino della nostra regione. Dunque possibili situazioni temporalesche, specie nelle aree interne. L'ingresso di una goccia fredda sul Mar Ligure determinerà una decisa intensificazione dell'instabilità sulla Liguria con rischio di rovesci temporali, specie nelle aree interne, ma possibili anche lungo le coste. L'avviso è quello di seguire i prossimi bollettini. Venti sostenuti da nord a Ponente, deboli da sud-est sul centro Levante, mare mosso localmente molto mosso, temperatura insensibile e calo. Situazione che andrà a continuare anche per la giornata di lunedì, con un miglioramento, ma i previsori di Limet ci dicono che c'è ancora il rischio di temporali sparsi, specie nel pomeriggio. Tempo ancora instabile, con rovesci temporali nel pomeriggio in Appennino, con possibili sconfinamenti costieri e ovviamente andando più in là con il tempo, non si sanno ancora con precisione come sarà l'evoluzione meteo. L'invito è quello di seguire i prossimi aggiornamenti meteo e lo faremo anche nei nostri spazi informativi. Questo invece è la Camogli, con il mare agitato, ma comunque nella norma, il vento non sta ancora soffiando, temperature che comunque rimangono gradevoli per questo sabato di giugno, penultimo sabato di giugno. Prima di passare alla lettura dei giornali, uno sguardo al santo del giorno, venerato oggi dalla Chiesa, il 22 giugno si venera San Paolino di Nola, Vescovo, e poi San Tommaso Moro, San Giovanni Fischer, Beato Innocenzo V e San Niceta di Aquileia, questi i santi venerati oggi dalla Chiesa. Andiamo dunque su Avenire, iniziamo la lettura dei quotidiani in ericola questa mattina, iniziamo dalla prima pagina del quotidiano della CEI. Il tema è legato ai fatti, gli incidenti dopo la morte di Sat Nan Singh nel mirino, il caporalato e le ancora tante zone d'ombra delle filiere alimentari. Il titolo è Cibo Spazzatura. Il governo promette un giro di vite sui controlli, il faro sul decreto flussi, oggi la prima manifestazione. E parla anche il Vescovo di Latina, che è Monsignor Crociata, Enesimo episodio disumano. Due giorni dopo la tragedia di Sat Nan Singh, l'indiano morto dopo essere stato abbandonato senza un braccio, la Ministra del Lavoro riunisce sindacati, associazioni e Ministro dell'Agricoltura per mettere a punto nuove regole e soprattutto inasprire i controlli nei campi. I sindacati chiedono anche di rivedere il decreto flussi, perché il lavoratore straniero irregolare rischia di essere facile preda per i caporali senza scrupoli. Intanto si colora di aree grigie e zone d'ombra la fotografia del settore. Non tutto l'agroalimentare nazionale brilla infatti in trasparenza, nonostante vi siano regole, protocolli, capitolati e certificazioni. Troppi produttori, spesso troppo piccoli, stentano ad arrivare direttamente ai mercati, che contano e spesso per poterlo fare devono affidarsi a intermediari di ogni genere. E nell'agropontino anche i pensionati tra gli invisibili al lavoro nei campi per 300 euro al mese. I caporali dell'agropontino ormai sono soprattutto indiani e bengalesi. Ad aspettarli di buon mattino ci sono molti connazionali, ma anche donne italiane che scendono dai paesi dell'entroterra per grannellare qualcosa con i mariti in perenne cassa integrazione. E perfino pensionati di 70 e 75 anni, gente scesa dal Friuli e dal Veneto abituata sia a lavorare la terra, ma non per i 200 o 300 euro che gli vengono ora offerti. Quindi la piaga del lavoro sottopagato. E sempre restando in Italia, sgomberato il silos di Trieste, ora un luogo più dignitoso, trasferiti 72 irregolari e 18 irregolari. Il vescovo di Trevisi dice pensare al loro bene. Sgomberato il silos di Trieste, ma adesso, raccomando al vescovo Monsignor Enrico Trevisi, si assicuri agli immigrati rotta balcanica o no che sia un'accoglienza dignitosa, come peraltro tutte le istituzioni hanno garantito. Il silos è come icona nazionale della precarietà, anzi della non ospitalità. Gli ultimi due clandestini erano arrivati solo il pomeriggio prima, due nepalesi incamminatisi lungo la rotta balcanica. Ieri lo sgombero, nell'operazione più pacifica che si potesse immaginare, con tanto di identificazioni. Il risultato? 72 irregolari, 18 irregolari, ma anche di controlli sanitari e poi il trasporto verso le destinazioni di accoglienza. E per la cronaca, sempre in Italia, esplode una fabbrica a Bolzano, sei feriti gravi, tutti stranieri. Nel Mantovano c'è stata anche un'altra vittima, di sei feriti, di cui quattro gravi, uno in pericolo di vita. Il bilancio del gravissimo incidente è avvenuto ieri notte nello stabilimento della ditta Aluminium di Bolzano, in realtà con 130 dipendenti attiva nella produzione di estrusi in leghe dure di alluminio. I sei lavoratori sono tutti stranieri, altro incidente con una vittima a Rivarolo, Mantovano. Lasciamo l'Italia e apriamo la pagina degli esteri, con il Medio Oriente in foto, vediamo, prosegue l'escalation a nord, Israele alla stretta su Hezbollah. La diplomazia internazionale è impegnata a gettare acqua sul fuoco dell'escalation tra lo Stato ebraico e gli Hezbollah del Libano, ma ad alimentarlo ci pensa l'Iran. Una decisione imprudente da parte di Israele potrebbe far piombare la regione in una nuova guerra, ha dichiarato Teheran. Presto prenderemo le decisioni necessarie, e ha dichiarato il ministro degli esteri, Israele Kats, perché non possiamo permettere che l'organizzazione terroristica degli Hezbollah continui ad attaccarci. E il fronte resta sempre caldo in Medio Oriente. Da segnalare l'editoriale di spalla di Leonardo Becchetti, il tema è quello delle case grine, della transizione energetica, tre problemi, una soluzione. La transizione ecologica procede con difficoltà su vari fronti per diversi motivi. In questo articolo ci soffermiamo su tre di essi, proponendo una soluzione che potrebbe intervenire positivamente su ciascuno allo stesso tempo. Questo è il tema che viene affrontato da Leonardo Becchetti nell'editoriale che troviamo sulla prima pagina di Avvenire. Dal quotidiano della CEI passiamo al secolo XIX, il quotidiano Ligure, che focalizza la sua apertura proprio sulla Liguria, sui dati economici elaborati da Banca Italia per quanto riguarda il 2023 Liguria, la crescita debole. Secondo Banca Italia il PIL nel 2023 per la Liguria è salito solo dello 0,8%, frenano i porti, cala l'indotto del turismo. Secondo Banca Italia nel 2023 l'attività economica in Liguria è cresciuta ancora, ma sempre più debolmente, con un aumento del prodotto interno lordo dello 0,8%, ultimi effetti del rimbalzo post-Covid. Le attese per il 2024 fra le 102 imprese sondate nella sede regionale Ligure sono improntate a una forte prudenza, infernata ai porti, in calo l'indotto del turismo, mentre sul fronte balneare l'autorità per la concorrenza sta impugnando le proroghe dei comuni alle concessioni balneari. Ma proprio sul tema dell'economia Ligure, sul report fatto da Banca Italia abbiamo il servizio che andiamo a vedere insieme. I segnali più incoraggianti arrivano dal turismo che ha visto una crescita del 4% delle presenze complessive soprattutto grazie agli stranieri e gli italiani sono calati dello 0,5% e dal settore edile che spinto ancora dalla presenza degli sgravi fiscali del 110 è cresciuto del 7,7%. Rallentano invece i traffici portuali dove hanno pesato in maniera pesante le incertezze legate allo scenario politico internazionale. Per la Liguria è un quadro in chiaroscuro quello che emerge dall'analisi dei dati elaborati dalla sede genovese della Banca d'Italia per il 2023. L'economia Ligure cresce ma con un ritmo più lento rispetto all'anno precedente. Siamo intorno ad un dato stimato dello 0,8% quindi sicuramente il rallentamento rispetto all'anno precedente ma siamo su una tendenza analoga al dato nazionale. Ovviamente poi all'interno dei diversi comparti produttivi di attività si sono rilevati anche degli andamenti diversi più o meno positivi. Frena la crescita dell'occupazione che nel 2023 ha visto un più 2,7% in decelerazione rispetto al 3,6% in più del 2022 anche se il dato resta superiore a quello dell'Italia in generale che è al 2,1%. E la crescita è stata più intensa per la componente femminile che ha registrato un incremento del 5,4% pari al doppio del dato complessivo. Il tasso di disoccupazione è sceso poi al 6,1% in Italia al 7,7% ed è calato il ricorso alla cassa integrazione guadagni. Le ore autorizzate sono scese del 27% a poco più di 5,7 milioni. Sicuramente c'è stato un aumento dei contratti a tempo determinato e in questo ovviamente va anche scissa la componente di trasformazione di contratti a termini da contratti a tempo indeterminato e questo è sicuramente un dato che va considerato positivamente in termini di stabilizzazione del lavoro. Il reddito nominale delle famiglie è cresciuto ma a causa dell'inflazione è ancora elevata sebbene in calo il potere d'acquisto è diminuito dello 0,8% in termini reali con un incremento della spesa per i consumi dell'1,3%. Tiene per il momento il comparto industriale anche se i segnali per l'economia Ligure e nazionale non sono positivi. Un quadro più definito si avrà a settembre con l'analisi dei dati del primo semestre del 2024. Però anche nel comparto dell'industria un dato positivo è quello degli investimenti che effettivamente sono aumentati soprattutto perché le imprese si sono attrezzate per l'acquisto di beni strumentali e questo è un buon dato. Dunque questo è il quadro dell'economia Ligure per quanto riguarda il 2023 elaborato da Banca Italia la sede di Genova in merito proprio ai dati relativi alla nostra regione. Agli altri temi che troviamo sulla prima pagina del secolo XIX ci parlano di politica la politica Ligure di spalla Totti incontri con gli alleati a domicilio la giudice per indagini preliminari Paola Fagioni ha concesso a Giovanni Totti il permesso di incontrare gli esponenti della giunta regionale e i politici i vertici tre si svolgeranno nella casa di Amelia con la finanza a vigilare e poi nei ballottaggi il PD si gioca l'ultima carta in Liguri al secondo turno a Sanremo e a Rapallo si caratterizza per una sorpresa il tentativo del PD di rientrare in gioco di non abbandonare il campo la sfida tra le due destre quella dei partiti e l'altra dai connotati civici e sono tutti uomini rischio ricorso per sette comuni per molti comuni Liguri sotto i 3.000 abitanti rispettare la parità di genere nella composizione delle giunte si sta rivelando un problema nella sola provincia d'Imperia i casi sono ben sette e la foto fa vedere una festa è quella dell'Oriente Espresso il treno storico è partito da Parigi è arrivato a Santa Margherita Ligure ha fatto tappa ieri pomeriggio con tre ore di ritardo rispetto al previsto non c'è stato nessun guasto ma l'Oriente Espresso è in ritardo per colpa del panorama il treno di lusso della stazione di Santa Margherita Ligure ad attenderlo c'era anche la banda arrivato un po' in ritardo per appunto fermate non previste per ammirare comunque il panorama della nostra costa e poi sempre per la cronaca legata ai campionati europei colpo grosso a Casa Baggio e giocava l'Italia i rapinatori hanno aspettato che iniziasse la partita della nazionale contro la Spagna per fare irruzione nella casa di Roberto Baggio ad Altavilla Vicentina il campione è stato colpito alla testa questa è la prima pagina del secolo XIX noi andiamo nelle pagine del Levante che ci portano a Sestri Levante e Baia del Silenzio tramonta l'ipotesi del ticket l'abbiamo annunciato anche noi nel telegiornale ieri in spiaggia servizi gratuiti e inclusivi nuove regole per l'accesso all'arenile di Portobello restano varchi presidiati e il numero massimo di 450 bagnanti il comune fa marcia indietro ed è scontro in consiglio sui tavolini in riva al mare intanto ieri vediamo anche in foto c'è stata la consegna delle bandiere blu ai balneari per appunto dare il vessillo che anche quest'anno ha ottenuto Sestri Levante per 10 dei suoi balneari intanto parla il sindaco controlli a nostro carico 50.000 euro per tutelare la spiaggia nuovi arredi dagli sportelli moretti da ricostruire luci per valorizzare le case ma una baia del silenzio che si riscopre anche sempre più accessibile e questo grazie ad una nuova acquisizione di mezzi elettrici che verranno messi a disposizione gratuitamente delle persone che hanno difficoltà a spostarsi ma anche bagni e servizi igienici in baia accessibili per chi si muove sulla carrozzina nell'infopoint di Mediaterraneo e su questo abbiamo il servizio tre mezzi elettrici a disposizione in modo gratuito per chi ha difficoltà di movimento una guida con percorsi cittadini privi di barriere architettoniche e un punto accessibile nella baia del silenzio all'infopoint con servizi e spogliatoi a misura di disabile così Sestri Levante compie un altro passo in avanti verso la piena accessibilità delle sue bellezze reso possibile grazie ai finanziamenti arrivati con il progetto europeo Tourism for All abbiamo inaugurato i tre mezzi accessibili che saranno prenotabili gratuitamente a Mediaterraneo alla mail info chiocciolamediaterraneo.it grazie appunto al progetto Tourism for All noi da oggi possiamo metterli a disposizione gratuitamente sono due scooter elettrici per portatori di handicap ma anche per anziani e una e-bike elettrica speciale creata per il trasporto delle carrozzine grazie al progetto abbiamo anche creato una mappatura inclusiva dei percorsi accessibili per raggiungere tutti i punti di interesse turistici della città questi tipi di servizi sono fondamentali perché danno la possibilità proprio alle persone con ridotta mobilità di accedere liberamente alla spiaggia al mare e adesso addirittura spogliatoi bagni accessibili proprio in Baia del Silenzio che è la perla diciamo del Tiguglio quindi siamo molto soddisfatti del lavoro che è stato fatto dagli uffici dai dirigenti insomma da tutte le persone che Mediaterraneo Servizi la giunta intanto sempre nella Baia del Silenzio sono state consegnate ai gestori delle spiagge e degli stabilimenti balneari le bandiere blu assegnate dalla FE rispetto ai 19 del 2023 quest'anno sono 10 vessilli che potranno sventolare su 3 delle 4 spiagge sestresi quest'anno per problemi legati al Gromolo è rimasta fuori la Baia di Ponente dove la qualità delle acque resta comunque buona ma non eccellente come richiesto dall'ente che assegna il riconoscimento i servizi però restano invariati mentre il sindaco ha già assicurato che sono in partenza gli interventi di risoluzione di alcuni problemi legati agli scarichi non in regola che già individuati saranno affrontati e sistemati a breve e c'è una cittadina seselevante che conferma la qualità delle sue acque con le bandiere blu ce n'è anche un'altra Recco che festeggia per la prima volta di aver conquistato il vessillo assegnato dalla FE e martedì ci sarà una festa per celebrare la prima bandiere blu ritrova le 18 il monumento dei caduti a Delemare bagnini e infopoint Recco potenzia l'offerta balneare premiata dalla FE la stagione della bandiera blu le spiagge che possono freggiarsi del vessillo FE partirà dal 1 luglio si chiuderà il 3 settembre in questo periodo la sfida per i comuni a dimostrarsi all'altezza degli standard previsti Recco che quest'anno ha conquistato per la prima volta il riconoscimento si è attrezzata con la presenza sulle spiagge di 5 bagnini addetti al salvataggio potenziando la sorveglianza ma anche con l'eliminazione delle barriere architettoniche attraverso la realizzazione di pedane per rendere le spiagge accessibili a tutti la predisposizione di pannelli informativi in ogni stabilimento balneare ed un pannello generale nella sede della Proloco punto blu per promozioni e informazioni dunque un'altra località del nostro comprensorio che può insegnarsi della bandiera blu restiamo in tema di disabilità abbiamo visto i servizi offerti in Baia a Portobello da Mediaterraneo e Servizi per l'accessibilità su questo tema della disabilità si apre anche un altro fronte a quello del lavoro e c'è stata un'altra inaugurazione ieri un nuovo servizio che è stato messo a disposizione nel centro per l'impiego di Chiavari rivolto proprio alle persone disabili che stanno cercando un'occupazione ce ne parla Jacopo Giovannini nel prossimo servizio si chiama ufficio del collocamento mirato ed è il nuovo servizio che il centro per l'impiego Tiguglia Chiavari potrà offrire da oggi sosterrà l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità favorendone di conseguenza l'inclusione sociale una nuova opportunità ma anche un necessario avvicinamento alle necessità e bisogni lasciate molte volte in secondo piano delle persone che vivono la disabilità questi lavoratori devono venire da noi si iscrivono portando tutta la documentazione medica e possono iniziare un percorso di supporto all'inserimento lavorativo all'interno del quale troveranno aiuto da parte degli operatori per trovare quella che è l'azienda adatta alle loro esigenze alle loro caratteristiche al loro profilo professionale per le informazioni non è necessario presentarsi fisicamente presso la sede nell'ex palazzo della giustizia in corso De Michi al 79 ma si può consultare un'applicazione l'appuntamento con l'operatore poi darebbe il via al percorso di orientamento abbiamo disponibile l'app Io Centro che consente di accedere online ad alcuni servizi come quello delle iscrizioni la richiesta di appuntamento e una serie di informazioni su quelli che sono i servizi offerti dal collocamento mirato per cui gli utenti tramite l'app possono avere già una serie di informazioni dirette poi se vogliono approfondire ci sono degli operatori con cui prendere appuntamento e iniziare un percorso vero e proprio che sarà fatto di più incontri più colloqui offerta di selezioni presso aziende oppure anche partecipazione a seminari collettivi per affrontare temi sull'inserimento lavorativo interessanti servizi per trovare lavoro ma anche per approfondire le proprie competenze da quelli più generali del centro per l'impiego tiguglio che nell'ultimo periodo ha agevolato la stipula di 120 contratti a quelli più specifici dell'ufficio del collocamento mirato allora se cercate un lavoro e siete lavoratori con disabilità potete venire da noi chiedere appuntamento portare un curriculum se lo avete ma se non lo avete ci sarà un operatore che vi aiuterà a prepararlo dopodiché la proposta è quella di partecipare al programma GOL che è un programma finanziato con risorse del PNRR tramite il quale è possibile accedere sia a misure di politica del lavoro di supporto all'inserimento lavorativo sia a misure di tipo formativo se avete bisogno di frequentare dei corsi per migliorare le vostre competenze professionali abbiamo un catalogo di corsi da proporvi a cui partecipare dopo l'incidente indagine per omicidio stradale il pubblico ministero ascolterà il marito che vuole rilasciare dichiarazioni spontanee verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Fabiola Prosperini rimane gravissimo il figlio di 6 anni il fascicolo è un atto per consentire tutti gli accertamenti del caso e poi 5.000 anziani a rischio la regione VAR al piano caldo chiave il protocollo per le prossime ondate di calore consegna della spesa a domicilio un numero verde per informazioni e aiuto ingressi scontati nelle piscine ed eventi di socializzazione in sale climatizzate il caldo si avvicina la Liguria non si farà trovare impreparata sono 5.500 i cittadini a rischio per le prossime ondate di calore che saranno presi in carico dal sistema socio-sanitario regionale in caso di bollino arancione o rosso come ogni anno i medici di famiglie pediatri e le ASD avranno a disposizione l'elenco dei pazienti a rischio spiega l'assessore regionale alla sanità Angelo Grattarola per la prima volta i Liguri possono contare anche sugli ambulatori dedicati alla bassa complessità attivi dalle 8 alle 24 che verranno progressivamente aperti nei distretti o nelle case di comunità anziani e persone fragili avranno a disposizione anche il numero verde 859 32 35 in funzione tutti i giorni dell'anno dalle 8 alle 20 con cui attivare i servizi di custodi sociali e di maggiordomo di quartiere tra i servizi offerti anche la consegna a domicilio della spesa o di farmaci per evitare uscite di casa nelle ore più calde e questi i servizi messi a disposizione appunto da chi è a rischio in caso di ondate di calore una è appena passata dicevamo temperature per i prossimi giorni in leggera discesa ma l'estate è appena agli inizi e sta per concludersi la competizione elettorale nei comuni chiamati al ballottaggio in Liguria sono due Sanremo e Rapallo e a Rapallo sono 32 i seggi per votare due giorni per esprimere la propria preferenza le urne saranno aperte dalle 7 di domani fino alle 23 e poi dalle 7 del mattino di lunedì fino alle 15 al termine della chiusura dei seggi aprirà poi lo spoglio del ballottaggio e vediamo i due candidati a Rapallo Elisabetta Ricci e Armando Ezio Capurro la scheda con cui poter scegliere uno dei due sotto ai nomi i simboli dei partiti che appoggiano i due candidati al primo turno si è espressa la metà dei 29 mila elettori una percentuale di partecipazione del 50 e 74% e anche in questo secondo turno di ballottaggio la fluenza al voto sarà uno dei dati che sarà monitorato per capire l'andamento anche del voto intanto Cogorno e Levi fate le nuove giunte il ruolo di vice sindaco va alle donne torna a Sommariva novità Bacigalupo svelata la nuova giunta che a Cogorno in vista del prossimo consiglio comunale del 26 giugno si è costituita al sindaco Garibaldi che tiene le deleghe di urbanistica lavori pubblici viabilità ed edilizia privata ha scelto trend conferme e una novità con due donne e due uomini Enrica Sommariva è confermata vice sindaco sarà assessore anche agli affari generali pubbliche relazioni culture turismo commercio attività economiche produttive riconfermato anche l'assessore uscente Sergio Segalerba che si occuperà di bilancio programmazione economico-finanziari attributi nettezza urbana altra riconferma per Giorgina Ines Zaccaron esterna che manterrà l'assessorato ai servizi sociali istruzione e formazione politica di partecipazione ai giovanili e della famiglia e organizzazione delle risorse umane pari opportunità nuovo assessore della squadra Luca Beo Torrente nominato assessore allo sport e salute digitalizzazione sicurezza ricerca di bandi innovativi politiche europee servizio civile trasporto pubblico e scolastico sostenibilità ambientale ed energie rinnovabili a lei invece si è già riunito il primo consiglio comunale del mandato il neoletto sindaco Gabriele Pisani ha nominato vice sindaco Paola Bacigalupo assegnandole le deleghe a cultura nettezza urbana l'assessore confermato Roberto Coppello bilancio programmazione economico-finanziaria e tributi ci sono poi gli incarichi dei primi consiglieri di maggioranza con l'ex sindaco Vittorio Centanaro che gestirà attività economico-produttive artigianato e tradizioni sviluppo e tutela del territorio poi altri nomi dei consiglieri delegati a Moconesi il primo consiglio comunale sarà mercoledì prossimo ma Giovanni Dondero non anticipa chi saranno i due assessori a Neirone Stefano Sudermani ha nominato come vice Andrea Cavari e come assessore Ugo Belizzelli entrambi senza deleghe questa per quanto riguarda la politica amministrativa del nostro territorio ancora la cronaca nelle Levante cagnolina uccisa dai cinghiali il sindaco sbotta Recco assediata tragico attacco sulle alture altro episodio in mattinata il sindaco Gandolfo dice serve l'ok agli abbattimenti nei centri abitati allarme nell'entroterra la regione piano contro la peste suina 7 catture a Portofino e i numeri di questa situazione 10.000 i capi di cinghiali che si sarebbero potuti abbattere durante il periodo di caccia 6.000 in più rispetto agli anni in cui non era presente l'emergenza peste suina questi numeri non appartengono alla fase dei depopolamento 160 gli esemplari cinghiali analizzati dall'istituto zoo profilattico e 35 contagi registrati a Borzonasca centro dell'entroterra del Levante più colpito dalla peste suina africana e c'è lo zoologo e docente Andrea Marsan che spiega il pericolo è la confidenza occorre punire duramente chi dà cibo ai selvatici abbiamo visto anche il servizio collocamento mirato sportello anche a chiave rincorso de michil è rivolto a categorie protette e agli alle aziende sulle categorie protette parliamo di un altro tema che si è andato si sono svolte iniziative sul nostro territorio stiamo parlando della giornata del rifugiato con il SAI il centro di accoglienza di Sestri Levante che ha voluto celebrare una festa con coloro i quali hanno vissuto e sono stati accolti sul nostro territorio e su questo abbiamo il servizio accoglienza e integrazione vanno festeggiate le coordinatrici del progetto SAI di Sestri Levante hanno organizzato una serata con musica mercatino e laboratori per illustrare corsi e progetti realizzati con e per le persone rifugiate richiedenti asilo abbiamo voluto rendere i nostri ospiti protagonisti di questa festa con le loro creazioni con il loro cibo con la loro musica con le loro storie con le fotografie fatte nel laboratorio dei bimbi del nostro progetto SAI e quindi potessero in qualche modo cominciare a sentirsi anche parte di questo posto il progetto coordinato dal distretto sociale e gestito dalla cooperativa sociale a Gorà e dal villaggio del ragazzo coinvolge il terzo settore ma anche operatori sociali educatori avvocati assistenti domiciliari e altri professionisti che accompagnano gli ospiti nel liter dell'integrazione dall'alfabetizzazione al lavoro dalla casa alle relazioni abbiamo ottenuto quello che volevamo appunto lo scambio l'incontro nel parco cittadino che è un parco vivo dove le comunità la comunità sestrese e le altre comunità si incontrano quotidianamente la parola incontro la si legge in qualsiasi tipo di sguardo che incontri questa sera al parco i loro insegnanti hanno messo insieme professionalità e creatività Irene ad esempio insegna italiano ma è anche titolare di un agriturismo insieme ad alcuni dei ragazzi con cui lavoriamo abbiamo organizzato un laboratorio di cucina ci sono un couscous un piatto che ha portato un ragazzo brasiliano ed altre ricette che abbiamo elaborato insieme lavorando oggi tutti quanti per questa serata Maria ha coinvolto le donne richiedenti asilo a Castiglione Chiavarese nella realizzazione di abiti e accessori con stoffe africane assieme abbiamo creato delle cose per esempio questo è un modello inventato da Fatu con il mio aiuto siamo riusciti a realizzarlo tra tutte abbiamo proprio creato una nostra collezione alla serata hanno partecipato circa 240 persone fra loro anche la comunità marocchina e quella bengalese radicata in città queste feste aiutano ad avvicinarsi uno o l'altro perché rispettano le origini rispettano le radici delle persone senza discriminare nessuno essere in questi tipi di manifestazioni hanno un obiettivo di stare insieme e stare insieme si sta meglio concludiamo la nostra rassegna ci arriviamo verso la conclusione diamo un'occhiata alle pagine dello sport dell'elevante sport in elicola questa mattina partiamo dai bianco celesti della virtuosentella brucia le tappe la nuova squadra prende forma Franzoni dalla Giana Erminio del frate dalla Prosesto di Noia dal Foggia sono i tre ultimi ingaggi che vanno a potenziare una rosa già molto ampia in arrivo il Milan un anno e 23 a metà luglio i calendari per quanto riguarda la prossima stagione e sempre invece in casa del Sesto Levante formazioni giovanili a rischio risaliti confermiamo tutti gli impegni in una lettera dei genitori la preoccupazione per il destino di alcune leve dell'Academy Rosso Blu il presidente risponde la prima squadra si allenerà al mattino per lasciare i pomeriggi ai nostri ragazzi e dal primo luglio ci sarà l'open day e camp sponsorizzati dai giocatori e simbolo per quanto riguarda la società Rosso Blu che continua a puntare anche sul settore giovanile in serie D il Massese Mariotti nel mirino della Lavagnese e per il ciclismo il Chiavarese ha conquistato il titolo Under 23 a Grosseto Andrea Raccagni Noviero campione d'Italia a cronometro il ragazzo atleta di Chiavari che ha vinto appunto e diventato campione d'Italia Under 23 per la competizione a cronometro dunque in chiusura andiamo a vedere gli appuntamenti in agenda per la giornata di oggi Appuntamenti in agenda per sabato 22 giugno alle 10.15 allo Zirandia Garden di Via Raggio a Chiavari lettura ad alta voce Luisella Guasco e Michela Toni leggono il cibo nelle pagine dei grandi scrittori della letteratura classica italiana ed internazionale nella quadreria della società economica di Chiavari alle 10.30 inaugurazione della rassegna il macramé verrà presentato il libro il filo del cuore le 23 anime del merletto italiano ottavo rally della Val Daveto si incomincia sabato dalle 8.30 alle 13.30 da località Torrini a Gropparo nel pomeriggio dalle 14.20 alle 21 la competizione si sposterà sulla strada comunale di Alpicella Villaneri e del Penna ventesima giornata nazionale del Naso Rosso in piazza Matteo Testestri Levante dalle 10.13 e dalle 16.22 i volontari clown porteranno un sorriso in strada intrattenendo il pubblico con giochi e piccoli spettacoli alle 16 all'hotel Due Mari di Sestri Levante Luca Ponzi caporedattore del TGR della Liguria presenterà il libro L'ultimo padrino vita, morte e crimini di Matteo Messina Denaro al circolo Matteotti di via Santa Vittoria Sestri Levante Roberto Massari presenta Lenin e l'antirivoluzione russa inizio alle 17 seguirà la cena conviviale e il dibattito memoria presenza il titolo della mostra di Giovanni Ignazzi 25 dipinti che hanno a soggetto i luoghi in epoche remote presenti l'inaugurazione alle 17.30 alla Galleria Grasso di Chiavari la mostra sarà aperta sino al 30 giugno alle 18 al foyer del Teatro Carlo Felice di Genova Fabio Armiliato presenterà il suo libro autobiografico Una vita in canto L'alchimia della voce converserà con l'autore e il critico musicale Roberto Iovino ultimo appuntamento per il festival musica Sant'Anna alle 19 sul sagrato del convento dei frati carmelitani scalzi di Genova esibizione del duo Lamaranta mentre nella chiesa di Sant'Anna alle 21.15 si trarà il concerto del quartetto Lumen contemporaneamente sono previste visite guidate al convento e all'antica farmacia di Sant'Anna per il festival della letteratura Framura alle 21 incontro con lo scrittore Marcello Fois in piazza della Costa sotto l'imponente torre risalente all'epoca carolingia in attesa dell'assegnazione del premio due facce umorismo a sestri levante dalle 21 alle 23 in piazza Matteotti diversi artisti saranno a disposizione del pubblico per realizzare caricature strisce e disegni dal vivo nel borgo di Volastra a Rio Maggiore alle 21 verrà portato in scena lo sguardo di Telema con la voce delle cose spettacolo conclusivo di un progetto realizzato dal teatro pubblico Ligure abbaiare alla luna di Valeria Corciolani sarà presentato alle 21 nella sala polivalente di Riva Trigoso alle 21.15 all'oratorio di Santa Croce a Moneglia concerto per pianoforte di Giacomo Dalla Libera eseguirà brani di Beethoven Martucci Debussy e Chopin e l'agenda chiude questa edizione del nostro Tg Rassegna Stampa l'informazione torna in diretta alle 12.45 con la prima edizione delle Tg Telepace ma la trovate anche sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale Telepace 3 grazie per essere stati con noi buon proseguimento di giornata e buona domenica Grazie a tutti